buongiorno allora oggi video spesa lidl fruttivendolo vicino a lidl e ho preso i pigiami famosi pigiami perché mi devo operare ricoverare ok non sono pucciosi come sappiamo chi in genere li mette ma sono comunque carina allora una di marta mazzotto e una pigiama allora questa qui marta mazzotto mi piace tanto è semplice semplice ho voluto prendere una taglia comoda questa qua è una è una 3xl se ci fosse stata la 4 avrei preso anche la 4 però non c'è stava e ho detto sento a 10 euro mi sta mentre perciò ed eccolo qui carino carino con i cuoricini e blu è un tessuto primaverile non invernale perciò andiamo a incontrare a questa stagione a tempo che ora che faccio la visita chirurgica e tutto quanto mi ci vuole una mesata e questo sarà il mio pigiamino bello 10 euro niente male anche il cotone ottimo non ho visto il pantalone con me vediamo un pochino no bello comodo il pantalone vogliate perfetto sono stracontenta di questo pigiama è forse una delle mie prime volte che acquisto il blu ma siccome sto impazzendo tutto insieme mi sta bene se ci fosse pure non so un giallo fluo un verde fluo lo indosserei tranquillamente ho cambiato completamente gusti da quando non lo so prima avessero solo dei nero questo è ancora un pochino più leggerino ha sempre i cuori ormai è uno standard è questo qui sulla tua unità del grigetto ha il classico fiocchettino qua davanti ce l'hanno tutti c'è una bella scritta love molto carino irge taglia taglia dovrebbe essere sempre 3xl questa è una 4xl però calza un po più piccolina però va bene va bene spero comunque di dimagrire io compro i capi più piccoli in maniera che poi dimagrendo mi stiano bene capito no scherzo se ci fosse stata una taglia ancora in più la ripresa perché trovo che i pigiami devono essere comodi la parte di sotto è entrambi blu e si si può dire che ci dovrei star comoda una bella sciacquatina e preparerò la valigia purtroppo non per farmi una bella vacanza un'altra cosa che ho trovato in questo negozietto qua è un po vende un po tutto diciamo è un po articoli per la casa e viene li vedevo su aliexpress non l'ho mai presi perché vedono sempre 7 8 euro e dopo al cavalletta questo freschettino piccolo 7 8 euro mi scoccia un po si allunga se non lo sfascio prima del tempo ok si allunga e questo qui viene messo al frigorifero sono come dei dei contenitori extra dove vuoi mettere le cosettine non lo so le uova no dire di no però che ne so l'affettato o qualcosa comunque di piatto che comunque ti recupera tanto spazio in frigo l'ho visto dei video dove organizzavano comunque nel frigo comandavano messe le cose e usavano tanto di queste qui e ne ho prese due perché venivano 4 euro ok che non è regalato ok che plasticaccia perché tanto quello è poi da 4 euro ci li butto i soldi se davvero vale la pena allora io ne ho presi due ce ne stavano anche di altri colori ma io l'ho preso classico bianco e penso che comunque sarà utile che ho frigorifero si molto grande se andiamo a vedere ma mi si incasina spesso e ho un po di difficoltà a organizzarmi come il caos mi mi orta mi da fastidio allora frutta e verdura la lidl poco e niente tutto abbastanza caro avevo preso poi solo le mele che poi vi dirò però ho trovato le golden perché ecco un'altra cosa che mangio con la coliciste che non mi crea problemi e la me la costa perciò golden a 99 arance a 99 belle arance anche da spremuta e i classici mandarini sempre a 99 centesimi e trovo che a 99 centesimi è un ottimo affare li posto un attimo qua giù e poi me la sistemo tutta la spesa allora io avevo lo scontrino lo scontrino allora questa spesa è tutta per mio marito il mio pappagallo quello grande la piccolina mangia i suoi semini e ogni tanto spilucca frutta e verdura ma non è una gran mangiona e per la mia cagnetta in previsione di ricoveri ho preferito fare una bella riserva per i miei animalucci anche perché mio marito non ha mai dato da mangiare loro non sa proprio come organizzarsi solo quando mi sono operata di sliv si è un attimino organizzato anche perché c'era mia mamma invece stavolta non c'ho nessuno e se la dovrà vedere lui paciosamente perché so che comunque tra una cosa e l'altra mi ci vuole una settimana e una settimana e una settimana li dovrà accudire lui detta questa cosa ho preso i bastoncini luna che ha stranamente ne va matta ne va proprio matta di questi bastoncini quelli dell'euro skin quelli dell'euro skin si era stufata non non li mangiava più io ce li do come premietto la sera o la mattina dipende in genere più la sera comunque ho preso queste tre confezioni qui che sono mi sembra carne perché sono carne di grande qualità però non mi dice che tipo di carne comunque ho preso questi qui e sono un bel po vi dico anche il prezzo eccolo qua snack selvaggina un euro e 19 poi la mia cagna di questo è praticamente golosa però in genere riprendo o da moby dick o riprendo da animal planet perché riprendo le confezioni grosse e sono carne essiccata di pollo carne essiccata di pollo e di ottima qualità perché semplice carne essiccata e ne è proprio particolarmente golosa questa mi sembra che è una nuova confezione perché io prendevo sempre con questa qui orlando invece questa sempre urlando gourmet e ho pensato alla mia cagnetta poi ho preso anche questi perché erano in offerta picnic variety nel senso che ha più stick di più gusti di carne allora quella carne carne di pollo 1 euro e 99 a confezione non è regalata non è regalata però per dargli un premietto ogni tanto va più che bene per i miei animali questo e altro mentre quell'altro 1 euro e 19 sempre allora perfetto la mia cagnetta è a posto ho iniziato a prendere ho ripreso anzi la lavastoviglie il sapore per la lavastoviglie mi ci sono trovata bene in genere prendo quella dell'eurospin ma questo non è male è forse solo poco poco più caro mi sembra 3 euro e 90 3 euro e 90 però ci faccio tanti tanti lavaggi perché è 750 ml e non è male anche la profumazione non è male ho preso la profumazione per la lavastoviglie sempre per il motivo che se il mio marito non la fa le faccio riva una bella cura la lavastoviglie ci metto un profumatore questo profumatore l'ho pagato un euro e 20 e ce ne stanno tre non so come vengono applicati sinceramente perché quell'altro le mettevo nel porta posate non lo so se vengono poi poi controllerò vi dirò comunque era in offerta ho preso le mie famose salviettine igienizzanti queste qua me le porterò dietro le mie personali le prenderò per l'ultimo anche perché io sempre la riserva a casa però prenderò anche questo perché ultimamente con questo covid per carità puliscono tutto perfettamente ma è per me per una sicurezza in più per me e l'ho presa questa qui se poi invece la dovesse utilizzare ne prenderò sempre un'altra prima di farmi ricoverare stesso discorso idem per averle in borsetta questa qua un euro e diciannove un euro diciannove perché c'era quella 99 ma più piccolina ho voluto prendere questa di più più grandicella ed ecco da qui la cura lavastoviglie e ce ne stanno due la cura lavastoviglie l'ho pagato allora la cura lavastoviglie 2 euro e 69 però sono due confezioni e lo voglio provare voglio provare allora partiamo un po mischiato partirei dall'ortofrutta ne avrete 10 l'iceberg in genere si trova anche a 99 centesimi poi l'unica insalata che stranamente riesco a digerire che non mi fa male anche se ne mangio non in grosse quantità sempre in piccole quantità e non proprio freschissima perché oggi lunedì uno andrebbe andare a fare la spesa di lunedì però oggi mi premeva andarci e ho preso l'iceberg poi le mele quasi 1 euro e 30 ma per la paura di non trovare quell'altra in offerta ho detto vabbè le prendo perché mi servono comunque per fare le mele cotte ed ho preso quasi due chili ho preso per il mio papagallo che disturba 400 grammi di noci vi dico subito il prezzo 1 euro e 39 e ho preso anche le arachidi non è che ce le do stesso ma ogni tanto ma ogni tanto ce lo do anche lui come premesso e invece le arachidi le ho pagate 1 euro e 79 sempre per il mio papagallo perché io non amo questo tipo di mai si piace di più quello in barattolo quando me lo mangio e quello precotto io glielo prendo io lo tiro fuori dal frigorifero un pochino prima glielo taglio a fettine lui prende con la zampotta e se lo mangia e ne ho preso due sempre per avere una riserva non è proprio economico questo questo maestro che viene vi dico subito tutti e due pezzi 3 euro e 58 perciò non è proprio regalatissimo però ci fa proprio tanto ecco a 90 centesimi 99 centesimi c'erano le carote io me le faccio al vapore o me la metto cruda nell'insalata tagliata la julienne questa qui poi come proseguiamo proseguiamo con gli american sandwich perché li usa mio marito per andare a lavorare per il pranzo viene preparo due e quelli della leader sono i migliori perché non si spattolano però nello stesso tempo sono molto morbidi ho preso e questi qua vengono mi sembra 2 euro 19 2 perciò non so fare il calcolo c'è pure 4 per cento di sconto 1 euro 09 a confezione ho preso il miele io non amo il miele non l'ho mai amato però per non mettere zucchero artificiale tante volte utilizzo il miele soprattutto adesso mi faccio le mele cotte al forno al vapore l'ho provate ma non mi piacciono non mi piacciono proprio perché c'è fuori troppo l'acidulo della mela invece al forno ci metto una punta di un cucchiaino di miele sopra la mela e sembra proprio un piccolo dessert e a molte fa molto meno male dello zucchero e in genere prendevo quello che si svuotava premendo non questo al cucchiaio però stava in offerta questo preso questo è un mele millefiori a 2 euro e 99 ho preso le uova sempre allevato a terra con la speranza che sia vero e non non mi prendano in giro che io ci tengo povere bestie comunque sono dieci uova medie e al prezzo di un euro mi ricordo un euro e un euro e 49 mio marito adora sgranocchiare i savoiardi in genere capita che li mangiavo anche io se avevo desiderio di dolce perché hanno pochissime mi sembra 26 calorie a biscottino perciò tante volte dopo il caffè me ne mangiavo due mi sentivo gratificata come se avessi mangiato chissà che cosa e quelli che sono veramente buonini però io adesso non ne sto mangiando perché devo evitare anche i zuccheri li sta mangiando mio marito se poi proprio voglio voglia un paio di muzzi ce li do questi qua vengono un euro e un euro e 21 euro e 22 una cosa del genere sempre per mio marito stavano offerta un euro e sono i succhi di frutta pesca e pera lui diluisce con pochino d'acqua e ci fa tipo merenda insomma gli piace berlo questo qui in euro 09 era in offerta il riso erborio è ideale per risi fatti in maniera secca non deve essere mantecata perciò come riso in bianco come uso io che non ci metto nessun tipo di grasso solo un filo di sale rimane un po più passoso e non si non si perdono semi su semi non si sgranella e io lo preferisco altrimenti è pure fastidioso a mangiarlo visto che non è trattenuto da nessun condimento invece questo qui a un euro il 9 l'ho preso un chilo comunque ci farà ciò un bel po per me magari se riesco a mangiare un pezzettino perché adesso sto ancora mangiato solo un po di grana poco poco ho preso il gulda e goda non ricordo io non sbaglio sempre nome goda e quello dell'idl mi piace particolarmente e il sfrontal che ho guardato che hanno gli stessi tipi di grassi stessi tipo di proteine stessi tipi di calorie non cambia praticamente quasi niente e essendo un formaggio comunque abbastanza non lo so è anche molto presente nelle diete per la bassa aspetta ve lo dico subito no dice contengono latte niente però questo non mi fa male non lo so perché mi era stato spiegato la motivazione perché si mangia anche nelle diete ma non me lo ricordo e pensavo che fosse fatto con latte magro invece il latte praticamente è normalissimo perciò non la so la motivazione prima che spara qualche cavolata su di città allora adesso vi dico subito allora il gulda l'ho pagato 2 euro e 45 il fonda 2 euro e 19 ciccia carne mio marito sempre questo è tutto suo tranne una cosa che mi ha petto di si petto di pollo totalmente ormai mangio solo quello vedo solo quello a luce di pollo piccanti lui piacciono tanto ripassate in padella un po croccantine queste cobo io in genere cerco di non peggiorare troppo la situazione gli faccio una bella insalata vicino preso macinato miso di suino e di bovino e queste qui ci faccio le polpettine i hamburger ci posso fare polpettone conforme come mi gira al momento ecco in genere faccio sempre le polpettine al sugo o in bianco perché comodo se ogni tanto voglio variare per fargli un menù diverso invece dei panini voglio fargli un pranzo metto accanto un po di riso e delle polpettine al sugo e comunque questo qui mi sembra che stava in offerta allora c'era la carne a pronta a scadenza ma non mi piaceva non mi piaceva proprio l'aspetto e ho lasciato perdere ma c'era comunque questa qui che era in offerta allora il macinato miso 6 euro e 30 al chilo non troppo male come prezzo perché se ne trova anche molto più caro ho preso cosa vi ho fatto vedere le alucce di pollo ha un nome specifico alle di pollo speziate cotte eccolo qua 2 euro e 59 la confezione ho sempre per lui sempre per il discorso che tante volte a pranzo per fargli qualche cosa di diverso ho preso il cordon bleu a 2 euro e 39 io le una parte lo congelo e la parte lo uso nel caso ho preso le sovraccosce di pollo che sono per me non ho trovato le ali oddio questa è la fame non ho trovato i petti di pollo anzi c'erano ma non mi piaceva come era messa la carne non mi dava un senso di freschezza ho prenotato il pollone quello grande che io lo faccio in parti così il petto di pollo lo tengo per me mentre questo qui era comunque in offerta perché viene un attimo ve lo dico subito 3 euro e 29 però al chilo 3 euro e 29 al chilo si perché questo qui è un chilo giusto giusto e levo la pelle e la faccio al vapore giusto per cambiare un po' dal petto di pollo è sempre pollo però è un po' più morbidino e infine le cotolette di pollo serve per mio marito e veniva allo stesso prezzo di non dei cordon bleu 1 euro e 19 queste tipo le spinacine avevano un buon prezzo però mio marito con le spinacine non gli piaceva tanto preferisce la cotoletta classica allora penso l'aveva fatto quasi tutto credo no manca qualche cosa ancora allora posiziono un attimo la carne di qua si manca giusto ancora qualche cosina allora devo prendere o io rosaiva o i petit però io rosaiva hanno 30 calorie a biscottino i petit un po' di più almeno se devo fare colazione me ne posso mangiare 3 anche 4 sempre se lo digerisco e per fare colazione di qua 3 e 4 si può fare e il prezzo 2 euro 89 non tanto economico più di 2 euro ho pagato anche la glassa non la do però spesso ma tante volte se non metto olio non metto niente metto un goccino appena appena di glassa giusto per insaporire un po' la pietanza che mangio soprattutto se sono le verdure a vapore ma proprio poco poco quasi impercettibile altrimenti alla lunga è stancante mangiare solo verdure al vapore solo con un po' di sale insomma giusto per cambiare un po' di gusto e questo qui stava nel reparto sotto c'era tutta la glassa tutto l'acido balsamico e non l'ho proprio pagata poca poca perché ma neanche tanto dai 1 euro e 39 effettivamente anche 250 millilitri perciò non è male ho preso all'incirca un euro l'erba cipollina e aglio granulare li tengo sempre per riserva ho quasi sempre quella fresca però in urgenza ho anche quella in polvere ho preso sempre per mio marito sempre per lui delle salse che io spalmo sul pane se fai gli panini quando alterno per non fare sempre le stesse cose o quello spalmabile allora metto questi patè che sono patè di carciofini o di carciofi patè di carciofi insomma sa di carciofino né più né meno ho preso il patè di olive è molto buono con il petto di tecchino per esempio essendo una carne molto non molto saporita un bel patè di olive è molto buono il panino a meno a detta sua e poi ho preso funghi e melanzane e questi qui li potete usare comunque sempre per fare i crostini non credo che sia buono ma sì forse anche per condire qualche primo ma secondo me sono tutti a base acetosa perciò è più per qualche cosa tipo antipastino ma io li uso per i panini e questi qui vengono vi dico subito 1 euro e 79 tranne tranne sì tutti 1 euro e 79 tutti lo stesso prezzo ho preso i tovaglioli questi qui a doppio velo più comodi eccolo qua tovaglioli bianchi due veli a 1 euro e 39 mio marito ha preso anche per lui il tè alla pesca al 0 79 a bottiglia e niente la mia spesa è tutta questa ho fatto per calcio una bella riserva per la mia cagnolina per il mio pappagallo e anche per il mio marito che ne conti per farsi i panini anche se sono sicura che non mi ricovererò a breve perché devo prima fare la tesi da chirurgica però io per sicurezza ho dovuto fare questa piccola riserva nel senso che comunque non rimango sfornita offerte tante quelle prossime alla scadenza ma essendo lunedì per l'appunto non avevano un granché un bel aspetto e non ho osato prenderli perché comunque i prezzi erano veramente vantaggiosi allora vi ho fatto vedere tutto questa è la mia video spesa della Lidl e ci vediamo alla prossima ciao ciao